Buonasera a tutti, o meglio buongiorno, perché come vedete siamo ancora con la luce, perché sì, quest'oggi siamo usciti dal nostro studio, siamo venuti dove, beh, forse qualcuno di voi potrebbe riconoscerlo, siamo nella sede dell'Università Statale di Milano. Perché? Perché vogliamo parlare di Università, la mia parlato spesso, anche in altre trasmissioni, no? Spesso diciamo che Milano in realtà dovrebbe essere la città universitaria per eccellenza, in realtà Milano la si ricorda sempre peraltro e non tanto come città universitaria, ma come sapete i numeri, e non solo ci dicono invece il contrario, Milano è una grande città universitaria e allora abbiamo voluto venire qua, siamo voluti venire proprio qua, nella Statale di Milano, nella Facoltà, qui con il Rettore della Statale di Milano, buonasera, Elio Franzini, grazie mille di aver accettato l'invito. Grazie a voi, grazie, è un onore per me. Dicevo appunto, Milano, quando si parla di città universitarie, non è tra le prime che viene in mente, no? Uno mai pensa Perugia, Pisa, Siena, molte città, ma in realtà poi, se poi si vanno a vedere i numeri, Milano è la vera e grande città universitaria. Sì, Milano è paragonabile a Boston, perché Milano ha ben 220.000 studenti universitari, è quindi una delle più grandi città universitarie del mondo e pensate che in Lombardia ci sono ben 14 atenei e a Milano ce ne sono 8, quindi insomma ne abbiamo tanti studenti e studentesse e aggiungiamo anche l'Accademia d'Arte di Brera e il Conservatorio che comunque rilasciano titoli a livello universitario, quindi ne abbiamo tanti. Ecco, qual è quindi il ruolo, in questo caso appunto della statale, della statale di Milano nella città di Milano? Beh, noi di tutto questo gran numero di università siamo i più grandi, perché abbiamo ben 64.000 studenti, il 20% è fuor sede e quindi abbiamo anche molte provenienze dall'estero e da altre regioni italiane. Il ruolo è un ruolo triplice, triplice e importante. In primo luogo la nostra vocazione è quella della formazione, per cui noi formiamo molti studenti, i nostri alunni sono ormai in tutte le aziende, le istituzioni, non solo del territorio. La seconda attività è quella della ricerca, non dimentichiamo che quest'anno l'Università Statale di Milano è risultata prima in Italia per quanto riguarda la valutazione della ricerca scientifica. E il terzo, quello che adesso si chiama terza missione, cioè noi vorremmo portare cultura e sapere nel territorio, cosa che in parte credo riusciamo a fare. Allora Rettore, ci ha parlato di terza missione, se ne sente parlare spesso ultimamente, un po' anche forse perché vi tirano per la giacchetta per dirvi, ricordatevi che ce l'avete questa terza missione. Ma cos'è la terza missione? Questa è una bellissima domanda, perché in realtà l'Università è cresciuta con due missioni, la formazione e la ricerca. Poi provvisamente ci si è resi conto che l'Università faceva tante iniziative pubbliche, allora non sapendo come chiamarla, l'han chiamata terza missione. In realtà sarebbe meglio chiamarla trasferimento delle conoscenze o trasferimento del sapere, rende più l'idea di quello che è la terza missione. Noi abbiamo per esempio l'orchestra, abbiamo la statale cinema, facciamo teatro, musica, insomma abbiamo tante iniziative e le raddoppieremo, triplicheremo, non so ancora, perché nel 1924 siamo nati e quindi nel 2024 festeggeremo i nostri primi cent'anni. Si avvicina un compleanno importante, si avvicina in un momento in cui ci sarà anche una rivoluzione all'interno del statale, perché Mind, la famosa Ex Expo, il campus a Ro, come siamo messi? Quanto manca? Allora, siamo nella fase di quello che gli architetti chiamano il progetto definitivo, dovremmo entro la fine dell'anno accedere al progetto esecutivo e dopo il progetto esecutivo c'è soltanto la posa della prima pietra, che sicuramente faremo prima del nostro centenario, quindi la faremo nel 2023, quindi riusciremo a festeggiare con i cantieri aperti e le facoltà scientifiche si trasferiranno ad Expo, presumo, a partire dal 25. Quindi insomma il progetto prosegue, sappiamo che per costruire ci sono sempre delle lungaggini, in particolare per gli enti pubblici come il nostro. Quindi 25-26 i primi studenti entreranno molto probabilmente ad Expo, invece per quanto riguarda la città studi, si libera qualcosa, andate a occupare nuovi spazi, perché so che tra voi il Politecnico appunto se vi state un po' giocando la zona, no? Sì, noi in realtà siamo proprietari lì di ben, proprietari o comunque in concessione di ben 250 mila metri quadri, contiamo di tenerne gran parte e già dal prossimo anno è previsto nell'area di veterinaria che si è liberata, beni culturali che andrà lì con molti studenti, poi in quella che è agraria metteremo gli studenti di lingue, sposteremo studenti di scienze politiche, insomma contiamo anche di popolare l'area di città studi, cioè di non abbandonarla a fare. Quindi cittadini di città studi, cittadini del municipio 3, state tranquilli, il rettore vi assicura che non diventerà una landa desolata, non mai si usa questo termine. No, assolutamente, non diventerà una landa desolata. No, non è una landa desolata, ma noi poi siamo in pieno centro, in piena città, ormai devo dire che quando è nata città studi nel 24, 1924, era la periferia, adesso vedendo i prezzi credo che sia proprio al centro e al cuore di Milano. Ha detto prezzi, e allora non posso che fare una domanda su quello che molti, se non quasi tutti gli studenti che sono qui in questa università si chiedono, come fare a venire a studiare a Milano senza dover vendere un rene oppure ipotecare nonne e nonni? E questa è proprio una domanda corretta, è una domanda direi che ha un aspetto anche se vogliamo drammatico, perché Milano è una delle città più care d'Italia, direi in assoluto probabilmente la più cara d'Italia. La capacità abitativa di Milano è piuttosto scarsa. Noi non riusciamo a coprire con le nostre residenze neppure i posti del cosiddetto diritto allo studio, perché i posti del cosiddetto diritto allo studio sono purtroppo pochi e quindi non riusciamo a coprirli tutti quanti. Il nostro problema è cercare di far capire agli enti territoriali che il futuro dell'università si gioca integralmente sul diritto allo studio. Guai dimenticare che è il diritto allo studio il vero motore di crescita sociale che l'università può dare. Si fa troppo poco per il diritto allo studio. Noi abbiamo aumentato i nostri posti letto, da quando ci sono io, di più di 300 unità, ma sono ancora troppo poche. Milano avrebbe bisogno di, e non sto eccedendo, di altri 2.000 posti letto. Almeno 2.000 posti letto. Almeno 2.000 posti letto, perché altrimenti gli studenti non possono vivere l'università, non possono venire qui a studiare ed è un grosso guaio. Rettore, se non le faccio questa domanda, con lo tono in redazione, le ragazze che studiano qui e che fanno lo stage da noi non mi fanno entrare in redazione. Ha parlato di posti? C'è un dramma, mi dicono. I posti delle aule. Sì. Avete detto, durante avete fatto la DAD, per fortuna ha funzionato egregiamente, poi avete detto, ok, si ritorna al 100% nell'aula, e loro hanno detto, attenzione, che le aule noi le abbiamo al 200%, però come possiamo fare qua? Allora, diciamo che questo è un problema che non riguarda tutte le facoltà, ma in particolare le facoltà umanistiche, e in particolare studi umanistici, la vecchia, lettere e filosofia, dove effettivamente nella prima settimana di lezione ci sono stati dei problemi, perché in controtendenza sul piano nazionale noi aumentiamo i nostri iscritti e quindi aumentando ancora i nostri iscritti ci siamo trovati forse un poco impreparati. Comunque, diciamo che ci sono state una serie di concause e utilizzando questi giorni stiamo cercando di ricorrere ai ripari. Come? Ma in primo luogo, attivando lo streaming, quando l'app di prenotazione delle aule vede che ci sono più prenotati che posti in aula. Allora si attiva lo streaming, cosa che non tutti i professori hanno fatto come avrebbero dovuto fare nei primi giorni di lezione, e si apre un'aula, possibilmente vicina, per poter permettere agli studenti di seguire in streaming. Quindi seguire in streaming da qui, però non da casa, nel senso, è una possibilità comunque da seguire da qui. Da qui non da casa, anche perché uno studente potrebbe aver trovato posto nell'aula dalle 8.30 alle 10.30, ma potrebbe non aver trovato posto nel 10.30 alle 12.30. Credo che però il problema, tradizionalmente, e sono stato preside della loro facoltà di lettere e filosofia, il problema comincia a risolversi da solo nel giro di due o tre settimane, quando gli studenti si assestano e decidono che cosa seguire. Però noi dobbiamo garantire a tutti, sperando che la pandemia non morda ancora. Comunque credo che anche il nuovo campus, anche le nuove strutture, aiuteranno ad avere spazio per tutti. Ah beh, proprio per questo, in realtà noi avremo già l'anno prossimo uno spazio nuovo, perché in Santa Sofia, dove già adesso ci sono delle aule, è in corso la ristrutturazione di un palazzo, avremo più di altre 10 aule nuove. Purtroppo ci sia stato qualche problema di cantiere, come sempre, ma quello sappiamo che... Non vingono a casa nostra, quando dobbiamo semplicemente rifare un bagno, immagino per rifare un'università. Esattamente, però dovremmo avere molti, molti più posti in aule, in aule anche belle, moderne, tecnologiche. Insomma, diciamo che il problema è transitorio, purtroppo c'è, è inutile negarlo. Cerchiamo di porre delle pezze, ma vediamo se riusciamo davvero a farlo. Ma ci proviamo. Allora, abbiamo parlato appunto di studenti che vengono qui a studiare, che però fanno fatica perché la città di Milano è una città comunque cara, però sono tanti, perché insomma i fuorisede sono un zoccolo molto presente e duro nella vostra università. Che cosa fa appunto l'Università Statale per i fuorisede e quanto sono importanti questi studenti per voi? Allora, sono molto importanti. Come ho detto prima, i nostri studenti sono in tutto 64.000 e circa il 20% è fuori regione. considerando poi che ci sono anche parti della Lombardia che costringono fuorisede anche coloro che abitano all'interno della regione. Quindi gli studenti sono importanti, gli studenti fuorisede e internazionali. Primo luogo perché sono in aumento, il che vuol dire che la nostra università è particolarmente attrattiva per chi viene da fuori, proprio perché abbiamo un'ampia offerta didattica. Sono più di 140 corsi di laurea tra triennali e magistrali. Quindi noi cerchiamo di offrire una didattica di qualità. Cerchiamo anche di offrire una serie di servizi che possano, a partire appunto dalle nostre residenze, da quelle anche che stiamo ristrutturando ai vecchi Martinit a Lambrate, stiamo ristaurando tutti i Martinit e diventerà le nostre residenze. Cerchiamo di fornirgli un posto letto a prezzi incalmierati, perché sappiamo che i prezzi sono molto fuori mercato per le tasche dei nostri poveri studenti. Ha parlato anche di studenti internazionali, perché sono tanti, tanti gli stranieri che vengono a studiare a Milano. E potrebbero essere molti di più se ci fossero le disponibilità di posti letto. L'unico modo per attirare gli studenti stranieri è fare corsi in inglese. E infatti quasi tutte le nuove lauree magistrali e le lauree biennali che apriamo sono in lingua inglese, proprio per poter attrarre lo studente internazionale. Vengono in particolare, devo dire, per le discipline scientifiche, però ultimamente anche le discipline economico-sociali sono molto attrattive e sono studenti proprio di tutte quante le nazionalità, di tutti quanti i paesi, anche perché il brand Milano è un brand importante. Cioè Milano è una città che attira, è una città dove ancora piace vivere, lavorare, studiare. Molti fortunatamente si fermano. Ha detto appunto una città in cui piace vivere e lavorare. Lei è il rettore dell'università, ma lei fa anche lezioni però, perché lei insegna anche. È una cosa tipica dei rettori o lei è un caso raro? No, io sono, senza volersi lodare, sono un caso unico, non raro. Sono un caso unico perché di solito il rettore ha l'esenzione totale dall'attività didattica. Però devo dire che io faccio il professore, questo è il mio vero mestiere e facendo il professore non sarei riuscito a vivere qua dentro senza fare un corso che peraltro mi tiene vivo, tiene vivo anche la testa che non viene travolta soltanto da problemi di carattere burocratico. Per cui io sono felicissimo di farlo, non mi sono pentito e continuerò a farlo. Ha detto che è un professore, la scuola italiana, non saprei da che parte iniziare a dire che problemi ha. Però lo chiedo a un professore perché da fuori è facile criticare. Ci sono delle soluzioni o meglio si può pensare di che fino a poi migliori questa situazione? E soprattutto, secondo lei dove sono i punti nevralgici? Allora, i punti nevralgici della scuola italiana sono, in primo luogo, e qui sul PNRR hanno messo delle pezze, in primo luogo sull'orientamento, cioè lo studente deve essere ben orientato a quello che farà dopo, ci sono svariati decine di milioni per poter potenziare l'orientamento in modo tale che lo studente non sbagli la scelta universitaria. La scuola però soffre anche di altre problematiche. Io credo che noi dovremmo in primo luogo migliorare gli stipendi degli insegnanti, perché socialmente parlando l'insegnante è ancora sottobagato. Parlo dell'insegnante delle scuole medie e delle scuole medie superiori. E poi, come sempre, il grande problema del nostro paese, il grandissimo problema, sono le infrastrutture. Cioè noi siamo privi, sia nelle scuole secondarie superiori e inferiori, sia per quanto riguarda l'università, siamo privi di quell'aiuto infrastrutturale che forse dovremmo avere. Come al solito è un problema di soldi. Ecco, io mi auguro che queste contingenze spiacevoli dell'energia, dei strumenti, insomma, dei materiali non ci metta in una condizione ancora più grave. Perché, le faccio un esempio, per un'università come la nostra, le spese di energia quest'anno, se prosegue questo trend, saranno di 13 milioni superiori a quello dello scorso anno. E 13 milioni nel nostro bilancio, il bilancio di una società no profit come la nostra, dove, peraltro, gli aiuti sono soltanto statali, perché noi dei nostri studenti prendiamo soltanto al massimo il 30% dei nostri renditi, sarà un problema davvero grande. Immagino noi, immagino le scuole, immagino tutto il contesto sociale, e per cui credo che ci saranno molte università piccole, che avranno problemi a chiudere il bilancio quest'anno, se prosegue questo trend. Noi, fortunatamente, siamo grandi, ricotti, e riusciamo ancora. A tutta il colpo. A tuttiamo il colpo, ma certo, se il colpo non ci fosse, potremmo fare più servizi per gli studenti, più in realtà non dovremmo fare dei tagli, che potremmo fare. Facciamo finta che non c'è tutto questo, e anzi, domani, Franzini, lei può fare qualcosa in questa università che non ha mai fatto, cosa farebbe? Guardi, io rimango della mia idea. Il vero problema di questo Paese è aumentare il numero dei laureati. L'unico modo per aumentare il numero dei laureati è aumentare i docenti, ma soprattutto il diritto allo studio. È il vero segreto, l'unica cosa che ci permette, ci permetterebbe di fare il salto di qualità, è aumentare i fondi per il diritto allo studio. Molti dicono che aumentando il numero dei laureati alla fine si appiattisce tutto quanto, diventa un secondo diploma, e quindi poi sarà necessario avere tutti il master e poi tutti qualcos'altro dopo. Perché lei invece dice che bisogna aumentare i laureati nel Paese? In primo luogo perché siamo il Paese europeo con il più basso numero di laureati, e secondo perché, e quindi questo è già qualcosa, è già indicativo, e poi perché il livello culturale di una nazione si misura da quanta più conoscenza riesce a passare attraverso le sue maglie, attraverso tutte quante le sue tensioni. Insomma, la cultura, la conoscenza sono sempre qualche cosa che rende, sia dal punto di vista personale, sia anche dal punto di vista sociale e culturale in genere. Perfetto. Allora, Dettoro, io l'avevo, la ringrazio tantissimo, grazie per averci fatto conoscere meglio appunto la statale da vicino. Tante idee vedo, tante idee belle e chiare, speriamo quindi appunto che le possa portare tutte avanti durante il suo rettorato. Sì, questo naturalmente dipende da circostanze anche estranee alla mia volontà. Pensi che... Già avrei la volontà per qualcosa di questi tempi. Certo, però pensi che in quattro anni che sono rettore di questa università, il prossimo che vedrò sarà il quinto ministro. Quindi avremmo anche bisogno di un po' di stabilità perché così si continua a cambiare. Il quinto in quattro anni forse sono davvero un po' troppo. Mi ha fatto l'assist che il sesto sia il rettore Frazzini poi? Lo escludo nella maniera più assoluta. Proprio io ho finito questa esperienza, faccio il professore e basta. Ha avuto degli aspetti belli, degli aspetti meno belli, ma il mio mestiere rimane quello di fare il filosofo e ci tengo a essere ricordato più per aver fatto il filosofo che per aver cercato di reggere il migliore dei modi possibile questa grande città. Grazie mille davvero al rettore, grazie mille anche a voi. Se avete domande e curiosità così scriveteci che sicuramente poi noi faremo avere tutto al rettore. Ricordatevi che torniamo in diretta come sempre domani all'ora 18 qui su Milano Ognoso sempre per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille. Grazie mille.